Allora, Simone Altobello, bella la prestazione, è largo piuttosto il risultato, consolidata è la prima posizione di questo raggruppamento, anche se, lo sappiamo benissimo, ci sono due care che la United deve recuperare. Sì, noi veniamo da un buon periodo, abbiamo creato un bel gruppo, siamo gente anche dotata tecnicamente, comunque non mi sorprende che ci stiamo lottando le prime posizioni, quindi va bene, abbiamo un peccato per l'inizio che abbiamo sbagliato, ma adesso stanno cominciando a girare bene le cose, il mister ci segue, ci perfezioniamo allenamento dopo allenamento, quindi va bene, insomma siamo contenti di questo risultato. Ecco, arriviamo proprio alla fine del girone di andata, hai sottolineato un inizio un po' stentato, soltanto la prima battuta di arresto, ma sembra che è stata proprio una scossa per voi. Sì, sì, è vero, non ce l'aspettavamo anche noi, o meglio sì, ci può stare perdere con una squadra come Rocca Massima, perché è una bella formazione, però noi non abbiamo proprio espresso gioco, forse ci serviva proprio quello per incominciare a giocare, poi temevamo un leggero calo adesso con le pause natalizie, però tutto sommato siamo bene, insomma il mister ci ha fatto fare un bel richiamo di preparazione e abbiamo ripreso alla grande. Ecco, sabato si torna di nuovo in campo, la prima giornata di ritorno e affronterete questo atletico Rocca Massima. Bene, sarà una bella partita sicuramente, anzi io non vedo l'ora perché comunque è una partita che mi è rimasta molto addosso, insomma la sento particolarmente proprio perché all'andata non è stata una bella partita, quindi speriamo di fare una bella partita in casa e portare a casa i tre punti.